Stiamo per visitare le gole degli spiriti, un posto intriso di leggende, misteri, storie di fate, di folletti e con notevole altezze. Ce la farò! Stiamo andando veloce, ok? Ok. Aspetta, stai, 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 stai. Allora, non mi lasciare mai? No, no! Vai passo normale? Passi normale o veloce? Via, via, via! Vi puoi andare male, veloce! Oh, via, 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 via! Non fare questi movimenti prontini, vai, vai, veloce, veloce! Ok! steve fox examines an overnight phenomenon rapping to the beat oh yeah posso andare a fare le mie cose adesso adesso mi sto rilassando un po' nel bosco questo è il valico tedesco qui in mezzo al bosco l'acqua è veramente cristallina da queste parti meravigliosa è tutto pulito tutto ben tenuto c'è un rispetto della natura pazzesco qui un privato ha deciso di allevare alpaca e sono bellissimi adesso sono stati tosati da poco vediamo se si avvicinano che eleganza fatti accarrizzatevi come sei carino ci siamo già stati qui ieri ma ci siamo tornati perché perché non c'è bisogno di spiegare il motivo guardate che figata quando ci ricapita di camminare in questo posto così bello ricordo nei pressi di seffeld e adesso vi faccio vedere dove andiamo alla fine vi porto con me quindi qui con queste nuvole poi suggestive di brutto non 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 voi non so se lo vedete ma c'è l'arcobaleno che bel regalo ci ha fatto la natura per essere stati coraggiosi non Grazie a tutti.